Buongiorno, sono Antonella Moretta, Associate Dean for Open Programs presso la Polimi Grado School of Management. Siamo orgogliosi di essere accreditati ASFOR, un riconoscimento di altissimo valore che attesta l'eccellenza dei nostri programmi. Questo accreditamento è fondamentale non solo per noi, rappresenta una garanzia per tutti i nostri studenti alla ricerca di percorsi di formazione di livello internazionale. Polimi G-SOM offre un'ampia gamma di programmi, tra cui International MBA, Executive MBA ed Executive Mastering Management. Ogni programma è progettato per guidare i partecipanti verso il raggiungimento dei propri obiettivi di carriera, grazie a numerose opportunità di personalizzazione, servizi di carriera dedicati a un ampio network di aziende coinvolte. Il nostro approccio esperienziale orientato all'innovazione permette ai nostri studenti di diventare leader del futuro, agenti di cambiamento guidati da un Agile Purpose.